Buongiorno, andiamo oggi a risolvere questo problema. Abbiamo un trasformatore monofase reale con una potenza nominale di 10 kVA, 10 W di potenza persa nel rame e 400 W di potenza persa nel ferro. Vogliamo calcolare il rendimento nel caso il cos fissi è uguale a 1 e poi nel caso invece il cos fissi è uguale a 0,8. Quindi dipenderà dal discorso del carico, in un primo caso avremo un carico puramente resistivo, nell'altro caso invece avremo un carico ohmico induttivo. Allora, andiamo a vedere per prima cosa il primo caso. In questo caso abbiamo la potenza nominale che è la potenza nominale al secondario e quindi in questo caso qua S2 10 kVA con carico resistivo ho che P2, cioè la potenza attiva al secondario, è uguale a S2 e quindi utilizzerò questo per andare a calcolare il rendimento. Il rendimento sappiamo essere la potenza... Allora, rendimento percentuale è uguale a la potenza attiva al secondario fratto la potenza attiva al primario ma la potenza attiva al primario non è altro che la stessa potenza al secondario più le perdite che abbiamo quindi infatti senza le perdite sarebbe un trasformatore ideale quindi qua P1 è in realtà P2 più la potenza che perdo nel rame e più la potenza che perdo nel ferro quindi a questo punto vado a sostituire e mi viene 10.000 diviso 10.500 con un rendimento di circa il 95% al netto dei decimali nel caso 2 invece in questo caso avrò che la potenza P2 non è più uguale ad S2 ma sarà uguale a S2 per il coseno di Fi che abbiamo e quindi se noi andiamo a sostituire avremo 10.000 per 0,8 e mi viene 8.000 Watt quindi è questo il valore che devo andare ad utilizzare qua questa vale sempre e quindi qua avrò 8.000 fratto 8.500 in questo caso il rendimento è un po' più basso nel 94% quindi questo è un passaggio importante per capire come si comporta la potenza sul secondario dipendentemente dal carico che io collego spero di essere stata chiara ci vediamo al prossimo svolgimento grazie a tutti